Vince ma soffrendo la Dinamo Ladispoli che nel campionato di Serie D riesce a compiere un'impresa ribaltando il risultato finale contro Roma-Eure. 70-67 per la formazione di Ladispoli che tirano suo spiro di sollievo dopo una gara tra alti e bassi. I ragazzi di Roma meritavano la vittoria, noi siamo stati bravi a non mollare, abbiamo giocato una brutta partita, c'è tantissimo da lavorare, la squadra è nuova del resto, va bene così, sono arrivati due punti, complimenti ai ragazzi di Roma, un po' mi dispiace anche per loro, perdere all'ultimo minuto dopo essere stati sempre in vantaggio è dura, per noi godimento doppio ma loro sono stati bravi e noi dobbiamo lavorare tanto. Ci serviva, purtroppo la prima partita è andata come è andata, siamo stati sempre attaccati e l'abbiamo persa sul finale, ci serviva sicuramente morale, la prima vittoria dell'anno è molto molto importante. La sirena finale sprigiona tanta gioia tra i tifosi che sostengono la squadra per tutta la gara. Sì, il problema è che le partite prima si devono giocare e poi si può esultare per la vittoria, qui mi sembra che avevamo già esultato per la vittoria prima di giocare la partita, comunque queste sono cose che lavoreremo durante la settimana e durante l'anno, la squadra è nuova per cui c'è tanto da fare perché c'è tanto da fare. La reazione per lo meno stasera l'abbiamo vista e diciamo che siamo per ora soddisfatti di questo, però effettivamente dobbiamo lavorare ancora tanto.